Buongiorno cari amici, approfittiamo di una piccola pausa, devo fare alcune considerazioni sul discorso, sull'informativa di Conte alla Camera, sulle parole di Arcuri che toccano non solo determinate accade, ma a sostanza a cascata molti youtuber, anche piccolini come me, e devo rispondere a una domanda che mi ha fatto una persona su Instagram, su Eugalilei. Cominciamo dal discorso di Conte. Allora, siccome qualcuno pensa che ce l'ho con Conte a morte, sì, umanamente, io ribadisco, umanamente non lo rispetto, umanamente non lo rispetto, perché ha dato più di una volta dimostrazione di non essere una persona degna di rispetto. Ribadisco, un uomo vero chiede scusa, un uomo vero chiede scusa, lui i coglioni per chiedere scusa non ce li ha, e quando viene beccato con le mutande abbassate, fa l'arrogante, fa il ducetto. Mi dispiace, ma rispetto, questa è una misura anche del rispetto. E quindi non chiedermi di rispettare una persona che insulta una giornalista che lo sbugiarda, perché è stato sbugiardato, che non ha le palle per chiedere scusa all'ospedale di Codogno, sapendo benissimo, oltretutto sapendo già la mattina che i primi contagi dettori di virologia comparsi a Milano il 28 gennaio, quindi un mese prima rispetto a Codogno. Passiamo su questo. Allora, dal punto di vista retorico, discorso per quattro quinti ineccepibile. Ben argomentato, ben discusso, ben strutturato, molto diverso dall'intervento che ha fatto in conferenza stampa in televisione, però siamo sempre qua. Faremo, è allo studio, agiremo, opereremo, va bene, va benissimo, falle queste cose però, falle, perché finché si continua a dire è allo studio, faremo, arriveremo, agiremo, così, non c'è l'elemento di base. Ve l'ho detto, quando una volta, gli storici sono gli ingegneri delle materie di umanistiche, i filosofi sono gli scrittori di fantasy, io non sono un filosofo. E quando ho sentito una radio dichiaratamente di destra, uno storico deve essere anche un più filosofo, mi si sono rizzati i capelli in testa, perché è una roba che a uno storico gli viene l'orticaria, sentire devi essere anche filosofo, ma dove? Io devo analizzare i fatti concreti, le azioni concrete. Poi posso speculare su queste azioni, posso fare un what if, cosa sarebbe successo se, ma l'analisi è sulle azioni concrete e sul contesto in cui queste azioni si sviluppano. Conte, va benissimo, dici che non puoi aprire, ci sono delle solite ragioni. Perfetto, non discuto queste solite ragioni, ma per far sì che queste solite ragioni non trasformino l'Italia in un bagno di sangue, devi muoverti, devi aiutare tutte le fasce più deboli, a partire, ribadisco, a partire dalle persone sotto una determinata soia economica, a prescindere che prendano o no il reddito di cittadinanza. Chiediamo un punto, non è che tutti prendano 500 euro, la maggior parte dei redditi, se si fa una calcolazione, si arriva sui 350-360, con cui, se devi pagare anche le bollette, non campi in questa situazione. Non campi, punto. Vuoi agire, vuoi dimostrare che sei un vero leader? Allora comincia subito con la sospensione delle bollette o la rateizzazione delle stesse, riducendo il carico. Comincia soprattutto a fermare i burocrati che, supportati dall'agenzia delle entrate, stanno colpendo comunque che in questo momento, pur avendo una piccola attività, non è in grado di produrre reddito, ma a questi non gli ne frega un cazzo. Io ho ascoltato il discorso e ho detto che aiuterai queste categorie. Non devi dire io le aiuterò, devi dire io le aiuto. Qui agiamo subito. Hai detto che nei prossimi giorni usciranno due decreti, uno di un tipo, uno di un altro, ma devi farli uscire nei prossimi giorni, cioè nella prima settimana di maggio. Fali uscire. Cioè hai una responsabilità. Non te l'ha messa sulla schiena nessuno e su questo ok, non discuto. Ma nel momento in cui ti presenti e dici faremo, faremo, faremo e sono due mesi che si sente questa parola faremo, 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 capisci che la credibilità non in quel branco di politici che sta lì, che comunque non ha un contatto con la realtà, perché loro uno stipendio e non uno stipendio basso ce l'hanno. Tu devi ragionare, signor Conte, stavolta non ti chiamo Don Abbondi e c'è un motivo, devi ragionare non sul politico ma sul popolo, sulla povera gente, su quelli che non hanno da mangiare, su quelli che non hanno i soldi per pagarsi le bollette, su quelli che non hanno i soldi per pagare le tasse che comunque gli arrivano addosso, su quelli che non hanno i soldi per pagarsi l'affitto e non considerare che gli strumenti attuali di welfare siano sufficienti a garantire queste persone la sopravvivenza, perché se pensi che con 300-350 euro al mese di reddito di cittadinanza faccio una valutazione media per i single, una famiglia ci campa, allora hai qualche idea sbarellata della realtà, perché soprattutto in questo momento al reddito manca l'elemento importante, cioè la ricollocazione lavorativa, che finora è stata disastrosa, è stata disastrosa, diciamolo tutto, forse per me licenzierei in tronco tutti i navigator tanto servono quanto un dito nel culo, diciamolo come, non servono niente, non stanno producendo niente, per il costo che hanno producono zero, producono zero e non mi riferisco a questo periodo, mi riferisco a quello precedente alla quarantena, non si può dire che stessero facendo un buon lavoro, ricordatevi che li ho difesi in più di un video, in più di un lui ha detto, ma sì hanno appena cominciato, ma l'atto pratico che vi è un punto in cui non puoi difendere l'indifendibile, quello che chiedo io a Conte, penso che lo chiedano tutti gli italiani, non gli italiani con uno stipendio o altro, non gli italiani che vivono negli Attici, non gli italiani che comunque hanno uno stipendio garantito che gli permetterà di sopravvivere in questa situazione, ma gli italiani che sono a rischio fame, date una mossa, la prossima settimana fai vedere che hai compreso segiamente che la situazione è drammatica e devi cominciare a sostenere queste fasce a qualsiasi costo, perché non puoi utilizzare i DCPM solo per queste decisioni, che poi è giustificato dal punto di vista legale, ma non è quello il punto, tu li stai usando solo in una direzione, usali anche nell'altra, li stai usando solo in una direzione sanitaria, ma in una direzione economica? No, non li stai usando, e questo è grave, perché i danni che fa questa malattia si calcoleranno nei mesi, ma i danni che sta facendo questa cosa all'economia e l'inerzia del Parlamento, tutto, non ne salvo uno, tutto il Parlamento inerte, si misureranno in anni, in anni e anni e anni e anni, e più si rimanda un'azione incisiva e decisiva dal punto di vista dell'emissione economica nel sistema Italia, più i danni saranno alti, e questo devi fare, hai detto che farei due, la prossima settimana io spero di poter leggere sulla gazzetta ufficiale questi due decreti, e poter dire ai miei iscritti, guardate, i provvedimenti sono questi, 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 questo è buono, questo no, questo è buono, questo no, io finora di dire alla gente, vi arriveranno questi soldi, vi arriveranno quest'altro, non me la sento, perché mi sentirei di prenderli per il culo, e io di prendervi per il culo non ne ho voglia, non vi prometto cose che io non ho ancora visto, non vi prometto cose che legalmente non ci sono, perché sono solo dichiarazioni, suscettibili di cambiare in qualsiasi colpo d'aria, questo che intendo dire, la parte che però mi ha fatto cadere le palle è la fine, parca mi, ma hai proprio bisogno tutte le volte di autoincensarti, gli altri paesi guardano l'Italia, ho dei sondaggi di alcune agenzie specializzate che dicono che, ma queste agenzie cos'è? Prima di fare i sondaggi si passano le canne una con l'altra, non è che sono, se esiste un aumento della stima non è nei confronti del governo italiano, ma del senso di responsabilità degli italiani, che al 95% è considerato, questa è una cosa che condividono entrambi i nostri popoli, lo dico, entrambi le nostre nazioni, la tendenza ad essere abbastanza liberi nelle azioni, a volte scellerati, diciamola tutta. Gli italiani hanno dato una dimostrazione di responsabilità impressionante a fronte di una dimostrazione di inerzia da parte del governo altrettanto impressionante. Vuoi riscattare questa cosa? Tanto è inutile che dici che non lo fai per motivi politici perché mi viene da ridere, tu lo fai chiaramente per motivi politici, queste menate, non parlo delle azioni del governo, parlo di questi discorsi qua a fine tirata, fai vedere che nelle prossime settimane usciranno questi decreti e questi decreti agiranno in maniera decisiva e potente nei confronti delle situazioni più critiche, cioè le fasce economiche più deboli, cioè le persone sotto una determinata soglia di reddito, a prescindere che queste persone ricevano o meno il reddito di cittadinanza, lo ribadisco, o il REI, o qualsiasi altra forma di sostegno sociale perché chi riceve il REI sa benissimo quanto prende e non ci campi, soprattutto in una situazione in cui i prodotti saranno destinati ad aumentare di prezzo, puoi calmirare le mascherine, poi ne parlo adesso, ma non puoi calmirare tutto il resto, se nessuno raccoglie la frutta, la frutta aumenterà, dai una dimostrazione, chi è economicamente fragile adesso va aiutato senza se e senza ma, e se le banche piantano i talloni, perché diciamola tutta, le banche stanno piantando i talloni, prendi a calci in culo le banche, non devi dire alle banche date un segno d'amore, no, devi dire alla banca tu fai quel cazzo che ti dico io, altrimenti quindi puttanate alla Monte Paschi non ne succedono più, io vi sputtano in pubblico dicendo questa banca non aiuta le persone e questa banca perderà di credibilità, perderà i clienti e magari perderà anche i clienti importanti, agisci in questo modo, lo hai fatto nei confronti dei tuoi avversari politici, fallo nei confronti del sistema bancario, che se no avrà sempre la scusa buona per dire sì ma io però mi serve questo, mi serve quello, mettili con le spalle al muro, anche perché le banche c'hanno solo da perdere, perdere i clienti soprattutto grossi, perché in questa situazione molta gente svuoterà i conti, non avrà soldi sui conti correnti, i conti si chiuderanno, che la banca può fruttare anche poco se perde i clienti piccoli, se sono pochi, ma se ne perde tanti, perché poi c'è una questione tra di loro, si conoscono, c'è una questione di credibilità, di attendibilità, poi cominciano a scappare anche quelli medi, poi cominciano a scappare anche quelli grossi, cioè la banca campa perché ha clienti, non è che campa perché lo vuole lo Spirito Santo. Ecco questa qui, tu non dovevi dire merito, no, ringrazio gli italiani perché hanno accettato una limitazione delle loro libertà, si sono dati un senso di responsabilità, e per piacere non ditemi come fanno certi media, ha al giorno di Paschetta 14.000 multe su 65 milioni di abitanti, 14.000 sanzioni, è niente, è niente, niente, quindi per piacere non mettete in luce il puntolino nero su una tavola bianca lungo un chilometro perché quello che ha fatto, la stampa era quella. Le stime, lasciamo perdere poi le stime matematiche, io vorrei sapere chi ha fatto la stima matematica dei 150.000 uscita su un giornale, perché vorrei conoscere il modello statistico, ecco ma sono curiosità mie, adesso non lo so perché veramente qui siamo di fronte a degli scienziati che mi sembra che passino più tempo ad andare in televisione a dire delle cose, oltretutto contraddicendosi uno con l'altro, litigando uno con l'altro, piuttosto che ragionare in termini di attacco alla malattia. Magari lo fanno, non dico che non lo fanno, però la percezione che io vedo è quella. E qui una piccola postilla, la devo dire, vi ricordate quello che vi ho detto in merito il video di ieri sul titolo della Gazzetta del Mezzogiorno? Ora se Conte applica quello che ha detto durante l'informativa alla Camera, ai comuni del sud in termini di sostegno economico arriverà questo, zero, perché ascoltateve, ha detto, gli aiuti economici alle province e alle regioni saranno in rapporto alla quantità di persone colpite a livello di danno economico e sociale causato dalla pandemia. Quindi al primo posto c'è la Lombardia e all'interno della Lombardia, ai primi posti c'è l'Odigiano e il Bergamasco, poi a scalare gli altri. Scusatemi, al sud ci sono pochi malati, io quello che vi ho detto ieri e magari qualcuno ha detto ma che cazzo dice, lo ha detto Conte oggi, non avete avuto tante malattie, di soldi, i soldi che ho sono pochi, vanno a chi ha subito più danni, voi di danni non avete subiti, vattaccate. Adesso mi scrive, Gazzetta del Mezzogiorno, e ma gli aiuti anche noi, no, no, perché tu cosa hai detto? E ma chi se ne frega se no non riapre? Io cosa vi ho detto ieri? Se no non riapre, il sud muore. Questo è il risultato. Se l'Italia è sperequata, non è bilanciata dal punto di vista del potenziale industriale, non è una mia responsabilità, è una responsabilità di decenni e decenni, ma si torna addirittura, diciamola tutta, ai tempi del Regno delle Due Sicilie, in cui la struttura stessa dell'Italia era fatta così. Cioè, i sudi, in mano a pochi, ricchi, fetenti, lati fondisti, e il nord molto più attaccato alla gestione austriaca. Infatti, se andate a chiedere a Lombardi, Veneti e così, dal punto di vista della gestione economica e della tassazione, diciamo sì, vabbè, erano invasori, però sono arrivati Savoia, c'è da mettersi una mano sulla faccia, ecco. Si era passati da una gestione rigida, severa, ma puntuale dal punto di vista della gestione dell'economia locale, alla gestione dei Savoia. Era come passare da uno sobra a un obbriaco. Quindi, rendetevene conto che poi i De Luca e gli Emilia non frignino. Se Conte applica quello che ha detto, e riscoltatevi bene, i soldi vanno prima alle regioni e alle province più colpite del morbo, e poi a scalare le altre, se non ce ne sono abbastanza, le ultime non pigliano niente. Io ve l'ho detto ieri, se non ci sono soldi, quelli pochi che hanno devono andare a chi ha subito più danni, perché se non riparti chi ha subito più danni, che in questo caso sono proprio le regioni economicamente più impattanti sul PIL italiano, le altre non ce la faranno. Ma siccome qui si continua a ragionare per bottega, come paese, perché bisognerebbe ragionare come è stato, dire ok, dategli adesso al nord. Così il nord torna produttivo, la filiera dell'industria nel nord riattiverà l'indotto e l'indotto consentirà a delle aziende, a molte aziende del sud, perché io conosco il tessuto economico dell'Italia, a molte aziende del sud di ricominciare a produrre, quindi ritornare a guadagnare. Ma se è ferma quella, le aziende che devono mandare materiale l'indotto non lo mandano perché non c'è richiesta, gli resta lì e gli resta comunque da pagare perché le cose non si creano da nulla. Devi far ripartire il motore in modo che si tiri dietro tutto. È questo il discorso. Se Conte farà questa cosa, avrà dimostrato di aver capito e avrà dato un segno di una leadership che finora, umanamente l'ho detto, io non lo rispetto, umanamente non lo rispetto, ma se fa questa cosa che ha detto nel decreto, nella comunicazione alle camere, dà un segno di leadership che finora non ha dato, perché si rende conto che bisogna riavviare tutto in un determinato modo. Se non si riavvia la locomotiva, i vagoni dietro restano fermi. Però bisogna ragionare in questo modo, bisogna ragionare da Stato e non frignare perché hanno dato i soldi a Tizio e non a Caio, perché alla fin fine dare i soldi a quel Tizio servirà anche a Caio a sopravvivere, altrimenti siamo sempre fermi lì, siete sempre fermi lì. Chiudiamo il capitolo Conte. Come vedete sono stato ipercritico. Se fa quello che ha detto, bravo. La parte finale poteva risparmiarsela perché comunque è un'autoincensazione. Ma parliamo di Arcuri. Perché ho detto che è una cosa che tocca a me? Seguate la mia playlist, i video piaciuti, c'è in testa quello di Alessandro Maslow che ha fatto ieri sera. Io, non solo come... ragazzi, lui ha un canale da 600 mili e un canale da 2 mila. L'altro youtuber che ho visto e che ha parlato di questa cosa è Dim, che ha un canale da 40 mili ed è un ragazzo anche abbastanza giovane, però fa il contabile. Abbiamo condiviso tutti e tre la stessa preoccupazione. Se tu abbassi troppo il prezzo delle mascherine, finisce che chi le deve produrre non ha convenienza a farlo e quindi non le produce oppure le vende all'estero. Ora, il signor Arcuri, questo fighetto infumatato, se ne esce con un discorso imbarazzante parlando di neoliberisti intenti nei loro salotti a bersi le centrifughe di verdure e così. Ora, Arcuri, io non sono un neoliberista. Lui poi lui entra in CEA, dato che lui entra in CEA da 40 giorni. Io, come molti altri, sono in CEA da più di due mesi. Io ricevo, come tutti i volontari, come tutti i volontari della protezione civile, come tutti i volontari, a prescindere che si stanno facendo il culo, sapete quanto prendiamo? Questo. Questo. Zero. I medici, i medici che sono stati costretti, Arcuri, faccia da culo a lavorare a volte per due settimane indossando la stessa mascherina perché non c'erano mascherine di ricambio. Andate a chiedere ai dottori che due settimane con la stessa mascherina che ti dovevi lavare. Quando andavano, buttate via dopo l'uso perché non ce n'erano di ricambio. Non ce n'erano. E tu, gran faccia da culo, ribadisco, il 23 marzo, se non ricordo male, sul cogliere della sera, dici, entro tre giorni inizierà la produzione delle mascherine. Siamo al 30 aprile, siamo ancora qui a sentire, dire, e adesso ci sono 108 aziende italiane che inizieranno la produzione. Sempre il verbo futuro. Dal 23 marzo al 30 aprile, è passato più di un mese. Tu, Arcuri, non sei lì grati, sei lì stipendiato, sei lì pagato. Cazzo! Queste mascherine, quando devono arrivare? A giugno, quando magari l'emergenza non c'è più? Perché tu sei responsabile di questa cosa, perché te ne sei... non so, tu vieni pagato per fare questa cosa. Tu vieni pagato. Sei tu che hai comprato una vagonata di mascherine dalla Cina che facevano cagare al cazzo e si rompevano appena soffiavi il naso. Non le ho comprate io, perché se mi portavano quella merda fatta in carta, andavo a prendere il fornitore e lo incollavo a muro. Tu non hai detto un cazzo! Le mascherine che ho comprate adesso, che distribuiscono adesso, sono ancora per la maggior parte acquisti stranieri. E questo genio qui, che decide lui come organizzare la filiera, poi si incazza con chi dice, aspetta un attimo, a me, fabbricare una... ragazzi, chiediamo un punto, uno può dirmi, le mascherine non costano un cazzo. Sì, le mascherine di merda non costano un cazzo. Quelle di merda non costano un cazzo. Ma quelle fatte bene, sia che abbiano il filtro no, non costano 50 centesimi. Perché tu comunque, prima di arrivare lì alla tua mascherina, devi pagare i prodotti, devi pagare il materiale, non arriva lì e te la fanno. Devi pagare gli operai che la fabbricano. Se la vendi a un prezzo inferiore al tuo ricavo, cioè lasci un ricavo zero, io quella roba non la produco, la vendo all'estero e quindi ne lascio meno in Italia. Punto. Non facciamoci prendere dalla retorica del prezzo calmierato, perché io sono d'accordo che mi hanno tolto l'IVA, quella è una cosa intelligente, ma non facciamoci prendere dalla retorica del prezzo calmierato, sapendo benissimo, sapendo benissimo, che la soluzione per abbassare i costi sarebbe stata aumentare la produzione di mascherine. Altra soluzione, quella che ha detto Alessandro Masana, non mi sembrava stupida. I negozi, le vendono a 50 centesimi, lo Stato copre la differenza cercando di portarla inutile. Diciamo, sono cifre ipotetiche, l'utile ideale è vendere a un euro, ok, il negozio la vende a 50, gli altri 50 centesimi ce lo mette lo Stato. Altra soluzione, per le fasce più deboli della popolazione, torniamo sempre lì, le mascherine vanno distribuite gratuitamente. Il fatto che poi questa cosa la facciano già i comuni di tasca loro con le donazioni dei privati, a Arcuri questo non se ne frega. Ma questo coglione, perché è un coglione, non può venire a mettersi sullo stesso piano di medici e volontari che sono al fronte e che hanno pagato con la vita o ammalandosi, quando lui sta lì con un bello stipendio con quattro stronzi e che dopo un mese così non ha ancora sfornato un cazzo di mascherine, perché continua a fare il bulletto e quando gli dicono hai lavorato col culo, cosa ti rimballo? Eh, questi lignoli meriti col... Ma che cazzo dici? Fai il tuo lavoro, sei pagato per farlo, non lo fai gratis, sei pagato, fallo, fallo, pianta i piedi, ti hanno dato poteri straordinari, ti portano mascherine di merda, tu dici io questa merda non te la pago, fammi causa se c'hai i coglioni e vediamo chi ha ragione, perché tanto chi ti vende quella merda, di sicuro ti venderà sempre merda, bisogna... cioè adesso pensate solo a chi ha fatto la riconversione per fare le mascherine, ha speso dei soldi, ce li ha messi, non è che vengono giù dall'albero le macchine, non si addestra così il personale e di colpo si sente dire, beh tu hai investito, brutto cifra caso, non ragionate su... 100.000 euro sì, però adesso io ti faccio vendere le maschine a 50 centesimi, e dov'è il mio margine di guadagno? E sono cazzi tuoi, sono cazzi miei, ah beh io le produco, le vendo all'estero, oppure metto l'annuncio su ebay, ragazzi vendo al macchinario, cazzo devo fare? Sei tu che non mi metti nella condizione di produrre, perché l'economia è questo, e se qualche politico pensa di poter decidere senza chiedere il permesso a un economista, non parlo dell'economista semplice, ma all'economia mondiale, all'economia nazionale, all'economia europea, per parlare... allora questo politico qua è meglio che vado a farsi fare un TSO, è questo, è l'economia che comanda, bellezza, è l'economia, non la politica, ai politici si dà l'illusione di comandare, tu vuoi dire a queste persone, ah no ma si vende a questo prezzo, e l'economia in sé, senza tirare giù le grandi masse, i grandi poteri economici, ma anche quelli che dicono, ma io non ho convenienza, non le vendo, e tanto ce ne sono meno, ce ne sono meno, aumenta la richiesta, la richiesta non viene soddisfatta, e si torna sempre lì, e tu sinceramente hai risposto de merda, hai risposto de merda con un'arroganza che tirati due sberle era solo segnarti a stare al mondo. L'ultima cosa, poi vi lascio ragazzi, se questi video sono lunghi, lo so anch'io che sono video lunghi, però se non mi sfogo adesso con voi così, è inutile, io cerco di dirvi quello che penso, poi uno di voi reagirà a modo suo. L'ultima cosa invece è una risposta a Galileo Galilei, perché io ho sempre detto che dal punto di vista del metodo, cioè la creazione del metodo galileiano, Galilei è stato un grandissimo, ma va ricordato per quello, per il metodo galileiano, per il metodo con cui si deve affrontare la ricerca e la sperimentazione, cioè il metodo galileiano. Sulla parte astronomica, sinceramente, Galileo Galilei è da seggiolato in faccia su certe cose. uno, il cannocchiale non l'ha inventato lui, lui ha preso, ha sentito dire, parlare le cannocchiale a casa di Paolo Sarpi, e dall'idea che si era fatto del cannocchiale che stavano sviluppando gli irlandesi che faceva cagare, non dico, ha fatto un cannocchiale funzionale. Poi ha guardato le stelle e non ci ha capito un cazzo, non ci ha capito un cazzo. Giove non è una stella, è un pianeta, se qualcosa ci gira intorno, ma come cazzo, ragiona, non puoi chiamare erranti, cioè pianeti, quelli che girano intorno a Giove, perché Giove non è una stella. Cioè, lui ha capito quello che voleva capire, dal punto di vista dello studio dell'astronomia, Galileo Galilei ne ha detto più cazzate delle cose giuste che ha detto, il non ciussidereus è pieno di puttanate, ma lo capisco, però nello stesso periodo, nello stesso periodo, Keplero scriveva Astronomia Nova, che invece è un testo contro il coglione dal punto di vista astronomico, e l'ha fatto senza un cannocchiale. Quindi, salvando la grandezza di Galileo Galilei per quello che riguarda il metodo, cioè la creazione di un metodo scientifico basato su problemi ripetuti, con modifiche sistematiche di situazioni, che è l'affondante della ricerca scientifica attuale, quello è il libro. Di Galileo Galilei. Non, il non ciussidereus, il non ciussidereus è un libro interessante che smonta la teoria tolemaica, e ragazzi, tanto per dire, la teoria tolemaica è quella su cui campa Paolo Fox, vabbè, secondo lui, e poi vabbè, Paolo Fox ti dici, ma ti rendi conto che credi ancora, se ti basi su quello che dici, tu credi ancora che la Terra sia il centro dell'universo, non lo so, sei messo un po' malino, figliolo, però, per carità, danni non ne fai, ma buona parte delle cose che lui ha osservato non le ha capite. vorrei farvi notare che i babilonesi, costruendo la torre di Babele, che è diventata una cosa diversa attraverso la Bibbia, e temene anche l'unione tra cielo e terra, era un osservatorio astronomico. Le mappe che tracciavano i babilonesi erano più accurate di quelle che, a lato pratico, ha cercato di capire Galileo Galilei. I Dogon, che è una tribù africana, conoscevano l'esistenza della doppia stella di Sirio, come l'avevano scoperta mica a occhio nudo, non è che si è dietro l'angolo. Cioè, non è una critica alla grandezza di Galileo Galilei, è un discorso che andrebbe sempre fatto quando si osservano elementi storici, filosofici, di scienza, prendetevi il buono e prendetevi il cattivo, ragionate sul fatto, ma anche sulle cose cattive, altrimenti vi fate il santino, quello è il santino e non lo si tocca. Galileo Galilei non è un santino. Porca miseria, non ha capito un cazzo delle maree, eh? Continuava a dire che le maree erano la prova della rotazione terrestre. Cioè, a dirgli, guarda che la Luna, no, 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 la Terra funziona così e le maree sono la prova, no, è la Luna, no, no, è così. Galileo, va un po' a cagare. Cioè, a un certo punto, magari qualche bevuto in osteria in meno e soprattutto evitiamo di parlare del suo comportamento con la sua compagna, eh? Tre figli, una registrata come nata da fornicazione è finita a fare la sua ora e manco la sposa, anzi la fa sposare dall'assistente. Porca miseria, dimmi che... Poi non parliamo del suo comportamento con Keplero. Keplero scrive quel libro e lui gli mette la piva contro. Forse perché quello di Keplero si studia ancora in fisica e Galileo si studia storia. Si studia storia, ci sarà un motivo, no? Per quello che dico, quando prendete... Non mettete mai nessuno su un piedistallo di assoluta intangibilità. Vai, faccio un esempio personale. Io sono un grande fan di Peter Gabriel, musicalmente. Però non sono un fan coi paraocchi. Sono un fan, mi piace quasi tutto quello che ha fatto. Però dico onestamente che OVO, il progetto multimiliale fatto nel 2000, metà delle cose di quell'album fan cagare. E Scratch My Back, l'album che ha fatto con le cover di altri musicisti, azzo, è dura, eh? Il live è meglio, ma la versione studio è dura a dire che è bello, eh? Alcune canzoni sono talmente estropiate che ti cadono i maroni. E' quello il discorso. Non prendete mai tutto come... Ah, l'ha fatto tutto bello. Il tutto bello non lo fa nessuno. Nessuno. Manco Kubrick, tanto per rispondere a un'osservazione fatta frusciante. Manco Kubrick, perché Alcune Chat va bene che gliel'ha montato Spielberg, ci sta la... Quindi la colpa è del montaggio di Spielberg, ma comunque, montato da Spielberg, montato da Minonna, sono due coglioni dei film che non finiscono più. Spartacus è un bellissimo film, ma c'ha l'attendibilità storica di Capucetto Rosso. Cioè, va bene tutto, ma nessuno ha mai fatto bene tutto. Nessuno ha mai fatto bene tutto. A meno che tu non hai il prosciutto sugli occhi. Allora, se quello è il tuo idolo, va bene tutto. Galileo ha fatto cose grandiose, ha fatto cose eccezionali, ma non ha fatto bene tutto. Punto. Cioè, applicate sempre questa norma a qualsiasi cosa. Questo vi consentirà di non essere delusi quando vedete che uno scienziato, un letterato così rivela dei difetti che dite porca miseria, ma chi è questo qua? Perché siamo tutti esseri umani, quindi siamo fallaci e quindi prendete il buono, ma ricordatevi che c'è anche il cattivo. Per chiudere, ricordatevi, Lorenz parlava con le pape, andava in giro a chiacchierare con il cane e sosteneva l'eugenetica. Ecco, è questo il principio. Mi va bene, è bellissimo quello che ha fatto per l'etologia, ma dal punto di vista umanistico ti prendi due calci in bocca. Punto. Lenny Riefenstahl, il suo film sull'Olimpia, è un film stupendo dal punto di vista stilistico, ma quella era una nazista da merda che se fosse per me finiva a rogo. E questo, cercate di separare a volte anche il prodotto da quello che vedete. Klaus Kinski, come attore, era una roba incredibile, come essere umano, l'avrei arrotato direttamente con qualcosa per tirare gli ola, non mi ricordo neanche più come si chiama quello strumento. No, l'avrei chiuso in una vergine di ferro, così si divertiva. Eh, che cazzo! C'è sempre il... Gandhi, Gandhi... Gandhi era simpatico Mussolini, Gandhi era un maschilista, era un maschilista. C'è sempre un aspetto negativo in queste cose. Prendete tutto quanto, tenete per buono, meglio, assorbite il positivo di un personaggio, ma imparate anche l'aspetto negativo che gli eviterà a crescere meglio, a migliorare molto come persone. Io vi auguro a tutti buon primo maggio, noi ci sentiamo dopo le feste, intanto cercherò di informarmi su alcune cose che mi avete chiesto, in merito ai bonus, ma lì siamo sempre lì, bisogna aspettare sti cazzo dei decreti, e sul fatto della riapertura dei CAF e dell'IMS. Ciao a tutti, buon primo maggio!